... Rissa tra minorenni un sedicenne ferito al viso con un coltello questo pomeriggio in via Conci nella zona di Madonna Bianca a Trento. Il tutto è successo poco dopo le 17 al capolinea del numero 3. Una decina di giovani che frequentano le scuole professionali Eneip di Villazzano, dagli insulti e gli sberleffi sono passati alle vie di fatto dando vita ad una gigantesca zuffa. Sono volati pugni e calci, spintoni e dalla fine tre giovani sono scappati prendendo al volo l'autobus. E' a quel punto che uno dei tre, un sedicenne di origine albanese ma residente da tempo a Trento, si è accorto di essere ferito ad una guancia. Il ragazzo è stato medicato ed ascoltato dai carabinieri che stanno indagando su quanto accaduto. Si propende per una discussione nata per futili questioni scolastiche. Grazie. 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 Grazie.